Favorevoli 12, contrari 5, 3 astenuti. Non è approvata l'immediata eseguibilità. Sindaco, che cosa è successo ieri in Consiglio Comunale? C'erano diversi punti all'ordine del giorno, in particolare c'era una delibera, una variazione di bilancio per tutta una serie di opere per la nostra città. E questa delibera non ha avuto i numeri per l'immediata eseguibilità. È stata approvata perché tre consiglieri della maggioranza sono usciti, non l'hanno votata e quindi è venuto meno il raggiungimento dei 13 voti. Questo comporta che allunga le tempistiche e può compromettere alcuni risultati o può farli rinviare. Faccio un esempio per renderci conto. Sono tutte le asfaltature che si erano interrotte per la revisione dei prezzi, il rischio è di farli slittare alla prossima primavera. Oppure ci sono delle risorse che abbiamo avuto per il teatro e il rischio di compromettere con dei ritardi di perdere quelle risorse. Devo dire che da oggi, dalla mattina seguente, mi sono subito messo al lavoro per cercare di recuperare i tempi. Che cosa si sente di dire a questo punto sia ai consiglieri che alla cittadinanza? Beh, intanto come sindaco, un sindaco che si può dire tutto meno che non lavori, che in questi anni si è impegnato tanto e ha portato anche tanti risultati, sono sotto gli occhi di tutti. Poi si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo. Io dico che queste pagine non ci fanno onore. E siccome il sindaco è letto direttamente dai cittadini, io mi rivolgo a voi. È un po' come un padre di famiglia quando ha dei figli che si comportano male. Cosa fa un genitore responsabile? Intanto si scusa con chi ha recato un danno e poi magari ne parla in casa. E in questo caso mi sento di dire ai cittadini scusateci. Io mi scuso per questa brutta pagina che c'è stata ieri in Consiglio Comunale perché è una pagina di non responsabilità. Ci possono essere interessi politici, ci possono essere interessi di parte, ci possono essere discussioni, ma non sono tollerate quando queste portano un danno alla città. La città viene prima di tutto. Viene prima di ogni nostro interesse politico o personale. E allora questa cosa mi sentivo di dirla perché in me c'è un'amarezza, ma questo non mi scoraggia. Finché sarò qua, lavorerò con una man bassa perché ci tengo che i risultati, gli obiettivi che ci siamo dati vengano perseguiti. Perché adesso si apre una fase di tanti cantieri. Come dicevo, è il momento di raccogliere i frutti dei semi che abbiamo piantato. Però ecco, queste cose non fanno onore. Poi ci lamentiamo se la gente si allontana e arrivano determinati risultati. Beh, questi comportamenti non aiutano. Non mi appartengono. Ci tenevo a dirlo. E quindi, cittadini e cittadini, io mi chiedo scusa da sindaco per questi comportamenti.